Grazie Presidente. Anche noi confermo che manteremo la nostra posizione che abbiamo espresso in Commissione, che è fondamentalmente quella che ha ricordato il Consigliere Scandella, cioè noi stiamo deliberando, stiamo temperando a una sentenza del TAR che fa riferimento a un piano cave che oggi non esiste, perché è stato annullato da più sentenze del TAR, che lo hanno reso nullo. Quindi noi stiamo deliberando su qualcosa che non esiste. È vero, noi dobbiamo farlo, come è giustamente ricordato, però dobbiamo anche, allora, ottemperare altre sentenze del TAR che ci dicono che la VAS deve essere fatta, è iniziata, ma doveva essere fatta già da un bel po' di tempo. Per cui, ecco, alla luce di questa ragione, di queste motivazioni, ci pare illogico stare qui a fare una delibera che poi potrebbe essere impugnata di fronte al TAR, perché appunto fa riferimento a qualcosa che è stato annullato, lo riteniamo inutile star qui a deliberare, per cui anche noi non parteciperemo al voto. La nostra proposta era quella che questa delibera fosse integrata nel nuovo piano cave della provincia di Bergamo con VAS fatta. Questo sarebbe stato molto diverso, perché appunto avremmo avuto un piano cave con la VAS come in ottemperanza a numerose sentenze. Per cui, ecco, confermo che anche noi staremo qua alla discussione generale, ad assistere alla discussione, però non parteciperemo al voto. Grazie. Grazie.